Ok, mettiamo un pezzetto agli amici di Yasmin. Grazie. 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 l'anno, quindi buonasera, prende luce a fare anche i risultati, mi spiego un attimo perché è l'inizio della mostra, come giustamente anticipava il sindaco, qua rifletto avrete 30 anni in Cristolla, allora si inizia con il sindaco 88, poi andremo anche con la prima l'anno di 10 anni di amicizia 2003, poi la settimana italiana fatta in numeria 2008 e 25 anni di amicizia 2014, poi ovviamente mi dispiace, quello non poteva mancare, la sezione di amicizia è molto importante, quindi abbiamo portato anche loro delle foto, visto che siamo visitari, qui si metterà parlando come le convite, le altre, invece abbiamo fatto una foto che ha essere un sogno di un sindaco italiano e un'unica generation, cosa ne va dire che io non lo so, ho fatto da più in mezzo per tutto il prospetto spero che la cosa la tecnologia non abbia vado l'altro così potete dare la scadina poi alla fine abbiamo visto tutta una serie di vetrine perché non abbiamo anche tutti i simili di questi dati che sono scambiati ai simili del comune ai simili del buro e alla fine la descrizione del nostro sito è invitato e con l'ommaggio quindi se volete gradire potete avere un'ommaggio da parte del comune allora iniziamo a sinistra si finisce con i miei e poi c'è la stanza bello grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.